Mi chiamo Audrey Ngongel, sono barbiera, parrucchiera e certificata professionista di capelli per chi entra nella prima volta nel mio canale. Vorrei approfondire l'argomento del colore permanente. Il colore permanente è quello che fa più effetto, che crea un cambiamento drastico e che dura di più. Lo sappiamo tutti quanti che i colori permanenti hanno un processo molto semplice. Usa due elementi principali che sono il perossido di idrogeno e l'ammoniaca. L'ammoniaca ha per ruolo di aprire le squame della cuticola permettendo ai pigmenti di penetrare nella corteccia e cambiando il pigmento naturale del capello, che si chiama melanina. La melanina nel capello è ossidato e cambia il suo colore naturale. Questo processo semplice è ideale per le donne che vogliono coprire i colori grigio o fare qualche schiaritura che si avvicinano più o meno al loro colore naturale. I colori permanenti, qualsiasi uso sia, fanno danni ai propri capelli. Possono fare sembrare il capello fluscio o sintetico. Non solo richiede regolare i ritocchi, ma peraltro nelle istruzioni del prodotto la formula varia in funzione alla sua potenza. Molti ammoniati contengono dei componenti che seccano i capelli rendendolo crespo. Grazie. Grazie.